E' terminato il primo tempo, 3 a 0 a favore della squadra di casa, 3 gol tutti nati da un punizione negata a noi. Ecco un fallo proprio su Teddy non gli ha dato nemmeno la punizione. E' l'ultimo uomo, va direttamente sull'uomo, se sei una persona mesta, tu dici che è quello, è un fallo di scusa, è ammulito pure, è scusa, è ammulito apposta, apposta.